amici ciao amiche benvenuti in un nuovo vlog flash mi sono fermato a bere un caffè guardate questo trovato pausa caffè quindi ne approfitto e mi faccio una pausa caffè dato che manca ancora un pochettino mi faccio una pausa caffè guardate che bello è la prima volta che si trova un insegna così pausa caffè comunque banda le cianci ciancia le bande qua fa un caldo peggio di la quindi la prima pozzanghera la mia mi butto un attimo perché fa veramente un caldo atroce quasi quasi mettono a sdraio c'è mia moglie che prima se un tratto si abbronzata perché faceva veramente caldo adesso in macchina si sta rilassando un caffè perché però poi mi si chiudono gli occhi e niente penso che vabbè arriviamo alla destinazione sappiamo già cosa fare cioè mi riposo poi facciamo qualche girettino e poi domani non vi faccio troppi spoiler ci vediamo domani con un prossimo vlog flash spumeggiante 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 spumeggiante